buongiorno a tutti sono newtabris96 ed eccoci qui con l'apertura del box di nero e bianco confini varcati perché abbiamo comprato questo box ce lo dice la sargenti l'assistente ma fa un culo perché tutti quelli tutti i set di nero e bianco precedenti li abbiamo completati abbiamo fatto fuori nero e bianco nero e bianco nuove forze nero e bianco vittoria regali nero e bianco destini futuri nero e bianco esploratori delle tenebre nero e bianco stirpe dei draghi e tesoro dei draghi tutte quante completa in italiano è presto che arriveranno video di prima anche di quelli però adesso iniziamo col box di confini varcati sì le prime sette espansioni di di nero e bianco le abbiamo finite oggi fare confini varcati poi le ultime tre delle oggi apriremo nove pacchetti se i primi nove con l'andorus essendo il box del 36 questo è la versione totem non me lo ricordo mai no si totem perché l'altro è l'incarnazione quello è e boh iniziamo abbiamo preso anche questa bellissima miniatura di rosso rosso il primo grande allenatore di foto l'unico non ricordo apriamo ste cacchio di bustina speriamo di trovare che carta importante codici codici facciamo glielo per vedere tanto a me non servono niente ecco qua mettete in pausa se sì infatti se vi servono così no tanto il gioco di carte online uso sempre i mazzi predefiniti allora lopanni lopanni parla di le tu ok poi abbiamo crogank servain maguita patra merrill pozione frillish daclet reverse e chiure in bianco chiure in via bene iniziamo bene questo bellissimo il suo video di apertura molto bene perfetto prima carta molto bella chiure in bianco fuoco gerido bellissimo chiure in bianco perfetto e questo e iniziamo secondo secondo pacchetto codice eccolo qua senti qualcosa non mi sembra no quindi abbiamo un whirliped un vibrava un petty lil uno snivey un vubat uno shawatt cotony pokeball eletta buzzer verse e un victini la fantastica è uscito anche victini terzo terzo pacchetto codice ok quindi abbiamo dusclops electrode di sujimori si electrode gloom lillipop purloin spinda venniped sensu wirliped reverse e svubat la rara di svubat ok e siamo a un terzo dell'opera questa prima parte la prima parte ovviamente quindi il codice perfetto abbiamo abbiamo watch hog clink megaball snivey gotita pikachu pokeball dance bars cameroop treverse e un whimsicott e un whimsicott ok next one codice perfetto perfetto quindi snorlax schermori bitorzio l'elma buneri wii venniped scusate meo tangela numel da snorlax bellissima è un camero bella bellissima da snorlax prossimo quella lì era la quinta perché ne sono ancora 4 quindi codice perfetto perfetto e abbiamo bitorzio l'elma watch hog lopanni saiter tan sparse patrat da rumaca scambio reticate di treverse e un toxic rock e quindi codice perfetto e abbiamo azumarill toni war turtle gotita tangela duscal tepig tylow meloetta reverse e un jellysen bellissima meloetta reverse perfetto scorregetta reverse esattamente sono rimasti quanti pacchetti due ultimi due ci stiamo avvicinando alla fine della prima parte e quindi il codice e abbiamo gloom wabuffet rimbalzo botte in testo electro meo pokeball numel tra pinch psyduck con uno sguardo molto malefico un wabuffet traverse e electivire molto bella electivire olografica electivire olografica stampata pure alla cazzo di cane perchè è brutta storta guarda qua qua c'è il bordo no no si se notate ha i bordi abbastanza spostati è stampata alla cazzo però ok ce ne sbattiamo le palle codice e abbiamo e abbiamo munna coldak suonna minfu ratata purloin duebol electivus pikachu reverse e bellossom e bellossom perfetto con questo abbiamo finito la prima parte restate sul mio canale per la seconda e ci vediamo al prossimo video